La prossima settimana sarà decisiva per dare forma al dopo La Padula in Casa Pescara. Obiettivo numero uno è Matias Suarez, attaccante argentino che dal 2008 milita nella squadra più prestigiosa del campionato belga, l'Underlecht. Un giocatore di caratura internazionale con svariate presenze in Europa League e Champions League. Suarez ha un altro anno di contratto, scadenza giugno 2017, ma già da questa primavera aveva lanciato segnale al club di voler lasciare il Belgio, dove lui e la sua famiglia non si sentono più al sicuro per gli attentati terroristici. L'intesa di massima col Pescara c'è. I primi giorni della prossima settimana saranno utili per cercare un'intesa anche con l'Underlecht, che non può tirare troppo la corda, altrimenti rischierebbe di perdere Suarez a scadenza e quindi senza un euro. Il Delfino con poco più di un milione potrebbe chiudere l'affare. Non è tutto perché il presidente Sebastiani e il DS Inpector e Leone continuano a essere vigili sul fronte italiano. Marcello Trotta piace tanto e a Pescara potrebbe trovare le condizioni giuste per esplodere nella massima serie e potrebbe arrivare in prestito dal Sassuolo. Gaetano Monachelle è un profilo analogo che trova in Luca Leone un importante sponsor all'interno dell'entourage biancazzurro. Da verificare anche la situazione di Gianluca Caprari. Dopo il legnette di La Padula, i rapporti con il Napoli potrebbero riprendere per l'attaccante romano, che può essere ceduto a De Laurentiis, ma restando un altro anno in prestito in rival adriatico, oppure potrebbe prolungare il contratto proprio col Delfino. Altro nome sbucato ieri e anche gli pupillo di Leone che lo ha avuto a Lanciano è il senegalese Mame Babatiam, di proprietà della Juventus, e reduce da una buona stagione in Belgio al Varegem. Per il centrocampo, sempre nei primi giorni della prossima settimana, si attende l'arrivo alla firma di Brian Cristante, in prestito dal Benfica, mentre le prossime ore sono decisive per Valerio Verre. Il Pescara ha fatto Valere la sua opzione. Entro questa sera l'Udinese avrà la facoltà di esercitare la contro-opzione. Non dovesse farlo, Verre diventerà bianca-azzurro a tutti gli effetti, ma il Pescara dovrà sborsare 4 milioni di euro. E non è tutto perché su Verre è pronto a intavolare una trattativa il Napoli, che potrebbe acquistare il cartellino dal Pescara, per poi decidere se portarlo subito in rosa, o, come per Caprari, lasciarlo in prestito al Delfino per un anno. Per il settore difensivo, si fa in salita la strada per arrivare all'albanese Arlind Ageti, su cui è piombato il Bologna. Resta praticabile la pista Norbert-Ghionber della Roma. Mentre per Alessandro Crescenzi il Pescara non ha più esercitato il riscatto e torna così alla Roma. Infine una modifica sul ritiro precampionato del Pescara, che si terrà per intero, dal 14 luglio al 2 agosto, a Palena, negli hotel Terrazzo d'Abruzzo e Casa dell'Orso, per problemi al campo di allenamento scartata l'ipotesi rivisondoli, dove in origine il Delfino aveva pianificato la prima metà del ritiro, fino al 22 luglio.